Non ce posso credere, non ce posso credere, non ce posso credere Ragazzi, l'apocalisse è già incominciata, non è il coronavirus Coronavirus più doppietta di Kalinic uguale apocalisse, apocalisse Non ce posso credere Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Jabez Oggi siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video Siamo appunto qui nel Jabez Commentary per commentare il post partita Di Cagliari-Roma che finisce per 2-3 Quindi la Roma vince 3-2 alla Sardegna Arena Un campo difficile contro la nostra bestia nera Perché con noi il Cagliari fa sempre il partitone Prima di parlare della partita vi ti dico di lasciare un grandissimo mi piace E commentate qui sotto se vi siete visti la partita, che cosa ne pensate Sia della partita di Cagliari ma anche delle partite rinviate Vorrei fare un video a riguardo Però intanto fatemi sapere che ne pensate del coronavirus, il fatto dell'invio delle partite Della Serie A, secondo voi il campionato può essere falsato oppure no Voglio sapere i vostri pareri Poi magari ci farò un video più tra qualche giorno e dirò la mia Però intanto fatemi sapere la vostra E mi raccomando se siete nuovi ragazzi Iscrivetevi, azionate la campanellina Venite a me su questi social che vi lascio il link a tutti quanti in descrizione Se vi siete persi gli ultimi video vi lascio qua sopra nelle schede e anche a fine video Soprattutto andate a vedere il video di Francesco Gabbani Per chi ancora non l'ha visto ve lo lascio sia nelle schede che a fine video Il video che ho incontrato e conosciuto Francesco Gabbani Molto importante Iniziamo subito con il video La Roma appunto vince 3 a 2 alla Sardegna Arena Ottima partita della Roma Ottima partita della Roma Prima di fare il post partita voglio dire che i primi 20 minuti non le ho viste la partita Però comunque l'ho sentita Ho sentito per radio che comunque i primi 20 minuti ha dominato la Roma Poi ovviamente metto la partita Segna il Cagliari tra l'altro l'1 a 0 Bel gol di Cio Pedro Pallonetto E poi la Roma da lì in poi decide di fare la partita Dopo il gol incomincia e macina gioco su gioco su gioco Arriva il gol del pareggio Su appunto su Nicola Kalin ci segna il gol del pareggio Un po' abbastanza fortunoso Grazie al nostro pupillo che ci fa l'assist Ovvero Luca Pellegrini Ci regala questa gioia da tifoso della Roma Se sei tifoso della Roma penso di sì Ci fa questo grandissimo assist E appunto Kalin ce la butta dentro Gol del 1 a 1 Poi dopo il gol del 2 a 1 della Roma Avviene appunto con il Sempre con la doppietta di Kalin Se non sbaglio Avviene su... Non mi ricordo chi fa l'assist Assist se non sbaglio Palla a bruciapelo di Mkhitaryan Che ragazzi Mkhitaryan è un altro giocatore Sta in una forma smagliante Smagliante E appunto segna il gol del 2 a 1 Quindi doppietta di Nicola Kalinic Due gol abbastanza fortunosi Vorrei parlare di Kalinic Allora Ci tengo a precisare una cosa Lo scuso per tutti gli insulti che gli ho tirato Ma ancora non lo perdono Perché ha sbagliato troppi gol Da quando sta alla Roma Veramente tanti Quindi lo scuso per gli insulti Però ancora non l'ho perdonato Però continua così Perché se nel finale di stagione Farai un discreto Campionato Ti comporterai bene Farai comunque Non farai schifo come hai fatto fino ad oggi Ti potrò anche perdonare del tutto Però Comunque io ritengo che Kalinic Non può essere il vicegeco Anche se oggi ha fatto una doppietta Abbastanza fortunosa Secondo me c'è bisogno di un altro giocatore Per fare il vicegeco Un giocatore che secondo me Deve essere preso apposta Per finalizzare Detto ciò Parlando Continuando a parlare della partita Non parlando del vicegeco Che oggi Geco ha riposato per tutta la partita Non lo so perché Comunque un po' di turnover ci stava E Poi arriva al terzo gol Arriva appunto da Justin Klaivert Si sta a scaricare pure la cam Sperando che regga Se no devo rifare post partita Appunto segna Justin Klaivert Il gol del 3 a 0 Non mi ricordo chi ha fatto l'assist Comunque segna la 3 a 0 Ottima partita anche di Klaivert Quest'oggi ha giocato bene Sono già due partiti Klaivert mi piace Ottima partita anche di Bruno Perez Bruno Perez Ragazzi Bruno Perez Non Ceres Bruno Perez Non Ceres Ha finito Ragazzi si è disintossicato dalle birre È sano È sobrio È diventato sobrio Un giocatore sobrio Che gioca bene Non farà le partite assurde Però gioca abbastanza bene Poi dall'altra parte Ha giocato Kolarov Ottima partita E segna appunto Aspetta Poi pareggia Fa il gol del 3 a 2 appunto È la Roma che va sul 4 a 2 Poi fa il 4 a 3 No la Roma Arriva appunto Il primo gol di Cio Pedro Il secondo gol Bellissimo gol Il primo gol del Cagliari Il secondo gol lo segna appunto Pereiro Dalla panchina Poi appunto segna il 4 a 3 appunto Kolarov Bel gol Veramente un po' fortunoso Però su punizione Segna un altro gol Che tra l'altro sul fantacalcio L'ho lasciato pure in tribuna Per il motivo dei sei politici L'ho preferito Un sei politico E l'ho lasciato in tribuna Errore Da matita rossa E poi appunto Segna il 4 a 3 Cio Pedro Quindi doppietta Segna praticamente Tira a rigore Paolo Lopez Se glielo pare E su ribattuto Segna Cio Pedro Questo era il gol Ma l'ese Devo dire che non mi è piaciuto Ragazzi Due centrali Smalling Partita insufficiente Spero che sia un errore Che non sia una cosa che Sia una cosa casuale Perché Smalling È uno dei migliori difensori Della Serie A Quest'anno Quindi spero che Spero che sia un errore Di questa partita Ma che non sia Continuamente così Spero Ovviamente questa sia Una prestazione da togliere Però Smalling Secondo me è sempre Uno dei migliori difensori Della Roma Di quest'anno Fazio Ovviamente Già lo sapevo che avrebbe fatto schifo Inguardabile Difensore veramente Da Serie C Eppure troppa Niente raga La Roma Che spugna Al Sardegna Arena E vince per 4 a 3 Una partita Molto rocambolesca Fatemi sapere Nel finale Oppure un po' strippato Fatemi sapere Se vi è piaciuta La partita Lasciate un mi piace Un commento Una bella condivisione Se siete nuovi Iscrivete E niente ragazzi Da qui è tutto E noi come al solito Ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Sempre e comunque Forza Roma Dai 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 Secondo voi Il campionato è falsato Oppure no Comunque Sempre Forza Roma Dai Ciao